ciao benvenuto sul canale per paoletti sfarm allora oggi vedremo che attrezzature utilizzo quando faccio una potatura a vaso policonico dell'ulivo subito dopo la sigla benvenuti sul canale paoletti sfarm come vi accennavo prima della sigla oggi vedremo le attrezzature che utilizzo in campo per fare la potatura a vaso policonico anzi in questo caso la riforma dell'ulivo a vaso policonico prima però vi ricordo di mettere mi piace ai miei social facebook instagram youtube e in particolare di iscrivervi sul canale youtube e attivare la campanella allora il primo attrezzo in assoluto che viene utilizzato per la potatura a vaso policonico quello che viene utilizzato sia nella riforma che nella potatura negli anni è il segaccio telescopico perché telescopico perché il discorso che ci interessa a noi è fare tutta la potatura da terra adesso vediamo in uno specifico come funziona ed ecco vi faccio vedere come funziona tagliamo questi due succhioni allora questo facciamo una tecnica che diamo prima un taglio sotto dopo aver dato questo taglio sotto iniziamo a tagliare sopra questo perché perché ci aiuta a non scortecciare l'albero quindi in buona sostanza abbiamo visto come funziona e l'utilizzo che bisogna fare con il segaccio telescopico tenete presente che il 90 per cento del lavoro lo faremo con questo attrezzo nel corso degli anni adesso andremo a vedere per i tagli un po più grossi che strumento dobbiamo utilizzare secondo attrezzo quello che vengo ad utilizzare per in particolare per la riforma comunque per i tagli grossi è la motosega telescopica a batteria attenzione questa già avete visto il video della recensione di questo prodotto che vi lascio giù in descrizione e potete vedere anche sopra cliccando adesso vediamo come viene utilizzato vi faccio vedere qualche taglio ok allora adesso vediamo il taglio che possiamo fare andiamo a togliere questo ok e vediamo un taglio pulito e abbiamo iniziato ad aprire la pianta perché l'obiettivo del vaso policonico della portatura a vaso policonico e cercare di aprire la pianta basso per far entrare la luce così l'albero tende a produrre molto di più allora il secondo taglio che andiamo a dare facciamo il discorso del taglio prima sotto e poi tagliamo sopra perché perché questo ci permette di non scortecciare l'albero allora guardate come è uscito a molto omogeneo vi faccio vedere una particolarità questa parte qui è una parte morta perché noi nel nostro tipo di potatura non a vaso policonico la potatura tradizionale siamo abituati a lasciare a togliere completamente tutti i succhioni piccoli rami e questa pratica porta a far indebolire l'albero e deve vitalizzarlo quindi la linfa non andrà più al cento per cento invece il tipo di potatura vaso policonico no perché si lasciano piccoli succhioni ovviamente non i succhioni grandissimi i piccoli succhioni si lasciano per dare vitalità all'albero un altro prodotto è questa motosega piccolina utile per fare piccoli tagli vediamo adesso la funzionalità ovviamente sempre a batteria noi prendiamo questo pezzo iniziamo a tagliare e abbiamo fatto questo taglio con questo tipo di motosega sempre a batteria vediamo l'ultimo attrezzo che usiamo ultimo attrezzo che andiamo a vedere in questa sorta di serie e sono le forbici a batteria andiamo a vedere l'utilizzo prima vi ho detto di lasciare dei succhioni sull'albero adesso facciamo questa selezione con questo attrezzo seguitemi qui vediamo due succhioni allora questo è abbastanza morbido quindi lo possiamo lasciare questo è molto vigoroso quindi andiamo a tagliare ecco stessa cosa questo è ancora morbido questo invece è molto vigoroso e lo andiamo a tagliare qui iniziano a essere molti allora togliamo questo e vediamo qui qui ce ne sono addirittura quattro cerchiamo di prendere più piccoli più piccolo e potrebbe essere questo allora diamo il primo taglio due e lasciamo questo questo invece è molto vigoroso va verso l'alto e duro quindi lo andiamo a tagliare sempre rispetto della corona perché poi nel momento in cui se noi rispettiamo questa corona non c'è il dissecamento interno quindi guarisce bene non ci sarà questo tipo di dissecamento che va a incidere nel nel ramo principale e allora in questa puntata vi ho presentato come quali attrezzi utilizzare per la portatura a vaso policonico ovviamente la cosa più importante usare questo tipo di caschetto che ci protegge sia gli occhi con questa visiera sia la testa nel momento in cui potrebbe cadere qualche ramo tutti questi attrezzi sapete bene che potete trovarli presso l'azienda calabria vi lascio in contatti in descrizione troveranno la soluzione migliore magari non vi daranno proprio quello che sto utilizzando io troveranno la situazione la soluzione migliore in base alle vostre esigenze allora io spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo di mettere mi piace i miei social facebook instagram e youtube e in particolare di iscrivervi su canali youtube attivando anche la campanella così verrete sempre aggiornati ogni volta che uscirà un nuovo video per oggi è tutto ciao alla prossima ciao ciao ciao